Proprio stamane sono stato al Comune dove ho inoltrato la richiesta per le sedute di preparazione atletica decise con il mister e con il preparatore. Noi siamo pronti, spero che anche l'amministrazione comunale lo sia. Siamo stati rassicurati per quel che concerne la nuova stagione, quindi siamo pienamente fiduciosi nel nuovo assessore allo sport. Che cussavellino dobbiamo aspettarci? Un cussavellino che cambia pochi elementi. Sicuro abbiamo due partenze eccellenti che sono il portiere Vitiello che è ritornato alla Sandrabate e Nico Demo, il centrale che quest'anno ha preferito restare a casa, quindi giocherà un campionato tranquillo di Serie D stesso a Solofra. Per il resto la rosa è pressoché inalterata, ci saranno due ritorni di giovani, un 96 e un 95 che appena avremo le firme vi faremo sapere, e in più quest'anno ci sarà la sorpresa anche di un oriundo. Tre innesti sono certi, in più sarà un argentino, un italo argentino, con un passaporto italiano che ha deciso di trasferirsi in Irpinia presso Parenti a vivere e ha espresso il desiderio di giocare con noi. Lui giocava nell'ambito di un torneo cittadino Buenos Aires. Speriamo che possa darci una mano, l'entusiasmo è tanto e quindi presumo che sia un ottimo acquisto. Come si chiama? Si chiama Julio, Julio De Angelis, quindi nome argentino ma cognome italianissimo.